Anche io non ho resistito a questa tentazione chiamata Frosinone, ho deciso per questo di portarvi una no mercato challenge. Frosinone è squadra davvero clamorosa, ma occhio perché può essere una lama doppio taglio. Veramente tanti giocatori intriganti all'interno di questa squadra, ma ci sono tanti prestiti e nella gestione secondo me ci divertiremo parecchio. Mi raccomando, sotto nei commenti fatemi sapere come avreste gestito la squadra a differenza mia. Già dalla titolare potete vedere qualcosa di incredibile. Sule, occhio anche a quel Ferisai, occhio a Barrenecea, occhio ad Ocoli e a Turati. Andiamo a vedere però la rosa nel dettaglio. Per quanto riguarda la porta, il più intrigante è appunto Turati, che è di proprietà del Sassuolo, noi lo andremo a riscattare. Sul terzino di sinistra non abbiamo niente di che, Marchizza, 25 anni, 68, veramente marcio, mi verrebbe dire dal punto di vista della carriera dell'allenatore. In difesa centrale abbiamo Ocoli e Calai e basta, siamo un po' ristretti. Sulla destra invece abbiamo Monterisi che può fare anche il difensore centrale, occhio. Poi abbiamo Iono e Paul Lirola. La linea difensiva non mi fa impazzire. A centrocampio abbiamo Araui. 25 anni, 72, potrebbe togliere un po' troppo spazio a Barrenecea. Quindi Araui lo diamo in prestito. Vorrei puntare su Barrenecea, anche se c'è Brescianini che ha un anno in più e due punti overall in più. Proviamo a dare in prestito anche Brescianini. Questo Ferrizai, 18 anni, 57 di overall, ha un buon potenziale. Quindi proveremo a puntarci. Come proveremo a puntare anche su Ibraimovic. In qualche modo lo dobbiamo far giocare a sto ragazzo. Qualche dubbio su Giuseppe Caso c'è. Ma non perché non creda in lui. 24 anni, 71, per me può crescere molto. Però se poi andiamo a vedere la fase offensiva del Frosinone, cioè abbiamo Kvernadze che ha 4 anni in meno e potenzialmente può superarlo Caso. Abbiamo Reynier, abbiamo Sule, abbiamo Caio Corge, Marvin Cunni, che dirà. Cioè qui in attacco io non so come gestirmi. Se tenessimo questo modulo molti giocatori non giocherebbero. Do sta Ibraimovic? Ibraimovic, eccolo qua. Lo potremmo spostare qui, però poi avremo Reynier, Kvernadze che non mi giocano. Visto che la linea difensiva non è un granché, potremmo passare alla difesa a 3. E quindi qualche esterno dopo potremmo inserirlo. A Monterie! Ma che upgrade mi fai da difensore centrale? Attenzione perché ce l'ha svolta. Deve essere una difesa a 3 però con le ali, mi verrebbe da dire. Se noi facessimo così potremmo giocare con le due ali un attaccante. Eh, questo secondo me potrebbe essere il modulo giusto. E poi dobbiamo valutare i nostri ragazzi quanto ci mettono a diventare esterni più che altro. Sull'E per diventare esterno di destra ci mette 5 settimane. È un peccato allontanarlo dalla porta però. Reynier invece per diventare esterno ce ne mette 20. No, non mi interessa. Io metto Reynier esterno destra. Non posso allontanare sull'E dalla porta. Vediamo Kvernadze quanto ci mette a diventare esterno di sinistra. Ok, 13 settimane. Mettiamolo lì. Mi manca da vedere Ibraimovic. Quanto ci mette a diventare esterno di destra? Qua? Eh, no. Allora Ibraimovic alla sinistra e Reynier esterno di destra. Facciamo così. Nel frattempo abbiamo il cambio di ruolo di Monterisi che effettivamente fa davvero un bel upgrade da difensore centrale. Quindi possiamo mettere Ocoli centrale, Monterisi bracciato di destra, Calai bracciato di sinistra. Ho ufficialmente riscattato tutto il riscattabile. Sono molto soddisfatto. Ho trasformato inoltre Ferisai a trequartista avanzandolo leggermente ma ha fatto un punto overall in più. Adesso devo lavorare su Kvernadze e Reynier. Direi che questa è la nostra formazione titolare. Ho riscattato Kidira e l'ho dato in prestito al Bayer Leverkusen. Casolo l'ho dato in prestito al Braga e ho dato in prestito anche Mazzitelli e Brescianini. Raui è andato al Napoli, Oiono allo Spezia, Paul Lirola potrebbe essermi utile da spostare come esterno di destra. Però ho paura che possa togliere spazio a Reynier. Quindi io lo tengo per il momento ma non lo riscatto. Vi dico sinceramente che sono carichissimo per questa sfida. Quindi iniziamo a simulare la prima stagione. La prima stagione è volata senza nemmeno troppe turbolenze. La società è contenta del nostro operato. Tanti risultati positivi, negativi. Abbiamo vinto delle buone pareti, abbiamo perso delle pareti orribili. Andiamo a vedere però in classifica. Come si è messi undicesimi? 46 punti, a pari punti con Sassuolo, Elas, Verona. Insomma, metà classifica. Che ci può stare nel complesso direi? Questa è la nostra squadra. Qualcuno è cresciuto molto bene. Altri forse non sono nella posizione giusta. Però Turati, più 3, 75. Ocoli, più 5, 77. Kalai, più 5, 66. Non male. Monterisi è diventato un 70. Ha 22 anni, ha fatto più 9 di overall. Però considerate che con il cambio ruolo ha fatto effettivamente un upgrade importante. Baranezi è diventato un 70. Vernante è diventato un 69, più 5 di overall. Ferrizai è diventato un 65, anche lui, più 8 di overall. Regnier, più 4 di overall. Vedete, gli esterni di centrocampo non sono cresciuti. Cioè, sì, sono cresciuti, chiaramente. Ma forse qualche cosina in più l'avrebbero fatto se li avessi lasciati come... Se li avessi lasciati esterni offensivi. Ibrahimovic, più 7, 67 di overall. Sule, mostruoso ragazzi, 14 gol. Ho trovato questo ragazzo della primavera. Lo darò via. Kaio Horge, più 6 di overall, è un 77. Marvin Cioni, più 3 di overall, è un 69. Mentre che dirà, solamente un punto overall in più. Quindi direi, nel complesso, per questa prima stagione, la crescita è ottima. Per questa seconda stagione, le cose non vorrei sinceramente che cambiassero. C'è sempre l'incognita... Non tanto che dirà quanto caso, forse. Mi verrebbe da dire, 25 anni, 73... Cioè, non sfruttarlo per me è un errore. Ve lo dico sinceramente. In caso doveste fare una carriera allenatore con il Frosinone, secondo me, caso va sfruttato. Toglierebbe, in questa non mercato challenge, spazio Ibrahimovic. Che, secondo me, potrebbe, nei 5 anni, crescere di più di caso. Magari mi sbaglio. Vorrei provare a dare importanza ad Arion. Quindi, credo che caso, lo ridarò in prestito. Darò in prestito, anche che dirà. Quindi, in generale, la formazione non andrà a cambiare. Guardate queste due offerte che mi sono arrivate. Mattias Sule potrebbe andare al Betis per una cifra altissima. Siamo solo alla seconda stagione, ovviamente rifiuto. E successivamente arriva un'offerta da parte del Barcellona per Justin Ferrizai. È chiaro come il nostro centrocampista irlandese non sia ancora ben sviluppato. Ma quando arrivano queste offerte, significa che il giocatore è veramente tanto promettente. Tra l'altro, per i più attenti, io Ferrizai l'avevo anche già utilizzato. Quando avevamo ricostruito il Dublin, ovvero la squadra più scarsa di FIFA. Eravamo su FIFA 23. Ho dato in prestito chi volevo dare in prestito. Qualcosa, però, non è andato, come speravo. È rimasto Chedira. Ho la rosa troppo corta, quindi non posso fare altre cessioni. Sto spostando Chedira sulla destra. Come ha la di destra? Così può essere il primo sostituto di Sule. E forse, speravo potesse accettare importante. Teniamolo. Proviamo a gestirlo, Chedira. Come preventivato, la nostra titolare non cambia rispetto a quella dell'anno scorso. Possiamo andare a simulare la seconda stagione. Conclusa anche la seconda stagione, gli ultimi risultati non sono positivi. Però, in generale, ho visto più o meno gli stessi risultati della prima stagione. Non penso ci siano molte differenze. Andiamo a vedere. Sono arrivato 10. Quanto è arrivato l'anno scorso? Undicesimo? E più o meno siamo lì. I punti non me li ricordo, sono sincero. Speravo qualcosina di meglio. Però, la crescita, secondo me, inizia ad essere interessante e importante. Ci sono, però, un paio di giocatori che mi stanno deludendo. E forse il primo lo vedete subito. Non Turati, chiaramente, ma Monterisi. Più due ha fatto nell'overall. E guardate un attimo, 23 anni, 72. Io speravo potesse arrivare, tipo, non so, a 80. Guardate che roba. Bloccato totalmente. E io ho cambiato, no? I preparatori. Cioè, ho cercato di upgradarli. Infatti, come volete vedere, la difesa ha 13 stelle su 10. Però, la crescita di Monterisi è comunque molto, molto lenta. Cioè, è veramente un peccato. Perché poteva essere sicuramente un giocatore super importante. Più 5 per Barrenecea. Ferisai, 20 anni, 72. Si è fatto più 7 di overall. Cioè, vi ricordate? Aveva l'overall sotto al 60, questo ragazzo. Quindi, sta crescendo bene, pur non essendo un fenomeno. 79, Regner. 74, Ibrahimovic. 19 anni, più 7 nell'overall. Quindi, non ci preoccupiamo per lui. Sule, è semplicemente un fenomeno. Caio Horge, o George, più 6. 83 di overall. Per questa terza stagione, ho deciso di tenere, nuovamente, che dirà. Anche se si lamenta in continuazione. Se no, sto cazzarola dei che dirà. Potremmo tenerci quasi quasi caso, spostandolo alla di destra. Facciamo crescere un po' caso. E diamo di nuovo in prestito che dirà, che se sta a lamentare un po' troppo per i miei gusti. Caso, te che sei sporadico. E dai, un po'. Ho deciso di fare anche un altro cambio. Quello di formazione. Manteniamo questo modulo. Avanziamo un pochettino Ferisai. Lo mettiamo dietro a Caio Horge. E magari cresce un pochettino di più. Perché fornisce assist a lui e alle ali. E così Barrenecea rimane proprio nella sua posizione. Fissa. Che non è né cc, né un ibrido. È un mediano. Che è sia di rottura, che di impostazione. Perché comunque Barrenecea, passaggio corto, 82. Passaggio lungo, 75. Controllo palla, 80. Quindi, assolutamente un giocatore di qualità. A quel punto, Rainier e Kvernazze, però, sono leggermente abbassati. Però, come modulo, mi piace. Teniamo questo. La cosa bella di questi ragazzi è che, se poi andiamo a vedere nel cambio di ruolo, lo stesso Justin Ferisai potrebbe essere spostato come esterno offensivo. Infatti, stavo valutando di spostare o Ferisai come alla sinistra o di rimettere Rainier come ala di sinistra. Perché tanto ci mette pochissimo. Il problema è Ibrahimovic. Cioè, Ibrahimovic ci mette tanto a diventare esterno. 32 settimane sono tantissime. Chiaramente ci mette pochissimo a diventare trequartista. Però cosa faccio? Sposto lui trequartista. Ferisai che faccio? Lo sposto esterno di destra? Oddio, Ferisai esterno di destra, così Rainier 27. Ma sapete che? Ho paura di bloccarlo un po' facendo così. Questa è una bella idea. Però ho paura di bloccare troppo Ferisai. Rimaniamo così, ufficiale. Terza stagione, verso la conclusione, siamo arrivati in finale di Coppa Italia. L'andiamo a simulare velocemente, così nel frattempo vi faccio vedere anche la crescita della squadra. E come potrete notare, ci sono quei due, là, Caio Giorghe. Ogni volta lo chiamo in maniera diversa, ma non so, sinceramente. E sulle che sono ormai partiti, andati, mezzo a Airlines, e poi c'è il resto della squadra. Con qualcuno che mi sta nuovamente deludendo, sta deludendo. Questa è la formazione del Milan, con Cabral punto a titolare. Questa è la nostra, l'avete appena vista. Andiamo a simulare velocemente. Perdiamo 1-0. Peccato, peccato, peccato. Ci sono arrivati i quarti. Il prossimo anno abbiamo la Champions. Bravi ragazzi. Allora mi sa che questi due là davanti l'hanno carriata. Andiamolo a scoprire subito. 35 gol, Caio. Sule ne ha fatti molti meno. Però che crescita, ragazzi. Più 5, più 3. Ibraimovic ne ha fatti 11, più 6 punti overall. Guardate Firizai. Più 7 è un 79-21 anni. 18 gol. Wow, che spettacolo. Barrenesia si è bloccato, raga. Io volevo farlo arrivare a 84-85, ma così non ce la faccio come Monterisi, uguale. Che peccato, raga, veramente. Quando ho visto che Monterisi faceva upgrade a difensore centrale, ho detto, cacchio, questo allora lo spingiamo. In difesa sto spingendo, a centrocampo sto spingendo, in attacco un po' meno perché non c'è bisogno. Direi, entriamo all'interno della quarta stagione, la teniamo un pochettino più d'occhio rispetto al solito, proprio perché abbiamo anche la Champions League, quindi vi tengo aggiornati. La quarta stagione si apre con una bella soddisfazione, con Ibraimovic convocato in nazionale. Il ragazzo ha 20 anni ed è stato convocato nella nazionale tedesca, niente male. Solé sarà sicuramente perno della nazionale argentina, Ferrizay di quella irlandese e Ocoli di quella italiana. Per il resto stiamo aspettando incredibilmente Caio con il Brasile. Questo è il nostro girone di Champions. Arsenal, Frosinone, Rhone e Club Bruges. Veramente stranissimo vedere il Frosinone lì, è molto molto particolare. Andiamo a simulare le partite, vediamo insieme i risultati. Andiamo a simulare questa prima partita contro Rhone. E ci portiamo a casa un pareggio. Ma in tutto questo, qual è l'obiettivo della società? Raggiungi la fase a gironi, ma c'ero già, quindi va bene. Ci dobbiamo riqualificare però per la Champions League in campionato. Vediamo contro un Arsenal mostruosa. Perdiamo 3 a 1. Passiamo alla partita contro le Club Bruges. Ci siamo? Servirebbero tre punti e non arrivano. A questo punto, ragazzi, abbiamo simulato le prime tre gare d'andata. Fatemi sapere sotto nei commenti se secondo voi passeremo il girone. Vado a simulare il resto della quarta stagione. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Siamo fuori dalla Champions League. Arriviamo terzi a pari punti con il Club Bruges. Abbiamo però l'Europa League a questo punto. Siamo contro il Bayern Monaco. Ma davvero? Cioè, come cazzarola è possibile? No, dai, raga. Cioè, il Bayern Monaco che è arrivato secondo nel girone di Europa League con il Panathina. No, credibile. Cioè, questo è proprio una roba scritta e lo fanno apposta. Vediamo un po' l'andata. Perdiamo 2 a 1. Tra l'altro, questa è la squadra del Bayern Monaco. Arrivato secondo nel girone dietro il Panathinaikos. Va bene. Vediamo il ritorno. Signori, siamo fuori dall'Europa League. Siamo fuori da ogni competizione europea. Sperando non mi caccino, io vado a concludere la quarta stagione, ma non vi faccio vedere i risultati. Noi ci vediamo direttamente alla fine della quinta stagione. Finale di quinta stagione. E sì, signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo in finale di Champions. È stato un percorso abbastanza intenso, mi verrebbe da dire, complicato. Ma una volta vista la squadra, capirete che in realtà non è stato così impossibile, diciamo, questo percorso. Allora, alla fine della quarta stagione siamo arrivati terzi in campionato. Andiamo a vedere subito la classifica di Serie A in questo momento. Siamo arrivati secondi. Non siamo riusciti mai a vincere la Serie A. Questo è un vero peccato. Per quanto riguarda la Coppa Italia, nemmeno la Coppa Italia. Abbiamo perso 1-4 contro la Roma. Incredibile. E appunto siamo in finale di Champions. Ve la vado a spoilerare subito. La squadra massiva, ve lo meritate. Eccola qui, signori. Eccola qui. Con quattro giocatori abbiamo raggiunto il 90. Con due l'abbiamo superato. E un terzo giocatore è abbastanza vicino al 90 di overall. Io in generale sono soddisfatto, tranne che per un paio di giocatori. E adesso ne parliamo in maniera dettagliata andando nella brosa. Per quanto riguarda Turati, io ci posso stare. 84 di overall. Speravo potesse arrivare sull'85-86. Però, insomma, in un'altra stagione sicuramente potrebbe crescere qualcosina di più. Per quanto riguarda Ocoli, invece, 26 anni e 85, un solo punto overall quest'anno. Però, le statistiche mi piacciono. È un signor difensore centrale. Molto deluso. Non tanto da Calai. Non mi aspettavo, sinceramente, arrivasse a chissà quale overall. Come detto, deluso, sinceramente, da Monterisi. Che, per carità, ha 71 di potenziale. Però, insomma, viste le premesse, speravo in qualcosa di più. E speravo che mi desse qualcosa di più anche Barrenicea. Alla fine è arrivato all'81. Ed è sempre stato il titolare. Non so spiegarmi, sinceramente, questo blocco della crescita. Screttamente bene Cvernazze. Non mi lamento. Le statistiche sono impressionanti. E non vedo l'ora, sinceramente. Oddio, impressionanti. Velocità, accelerazione. Bene anche visione. Bene passaggio corto. Il dribbling. Non vedo l'ora di provarlo in-game. Come non vedo l'ora di provare Ferrizai, ragazzi. Ha 23 anni. Alla quinta stagione si fa un altro più 5 di overall. 90 il totale. Lui sì che ha statistiche che mi fanno impazzire. Secondo me in-game deve essere devastante. E quest'anno si è sparato 12 gol, 11 assist. Cvernazze invece 16 assist. Bravissimo. Rainier è diventato un 87. A 26 anni, più 2 di overall. Anche lui, ottime caratteristiche. Non gli ha aumentato le stelle skill. Solamente 4. Ma quanto è cresciuto Ibrahimovic? Cioè adesso a 22 anni è un 90 di overall. E boh. E boh. Ovviamente chiunque avessi messo come ala sarebbe cresciuto a bomba. Lo sappiamo come funziona quest'anno FC24. Però porca miseria. Partiva abbastanza basso eh. Mattia Sole. Boh. Ma di cosa dobbiamo parlare? Si è bloccato eh. Perché si è bloccato. Però secondo me andando avanti con le stagioni qualche punto overall in più potrebbe farselo. Clamoroso veramente. Come clamoroso Caio Horge. O Caio Giorge. O Caio Gorghe. No non è vero. Quest'ultimo non c'è. Non esiste. 32 gol per lui. Anche lui statistiche. Davvero molto. Molto importanti. E non è proprio bloccatissimo eh. Secondo me qualcosina in più potrebbe farlo. Insomma in generale cosa dire di questa squadra? I talenti lo sapevamo. Ci sono. Alla prima stagione bisogna essere bravi a gestire il budget per provare a riscattarli tutti. Sicuramente la linea difensiva va rinforzata. Si può puntare su Turati ma servono almeno un altro barra altri due difensori centrali se volete tenere questo modulo. In caso vogliate utilizzare i terzini anche lì bisognerà investire qualche soldo. Probabilmente la cosa migliore da fare nella gestione della squadra è utilizzare il 4-3-3 offensivo con il trequartista. Sfruttare lì Ibrahimović o Ferisai. Quindi dargli importanza fin da subito. Caio Horghe, Souley sulla sinistra si potrebbe puntare su Reynier. Con Kvernazze il primo sostituto. A quel punto poi dovrete prendere dei sostituti per gli altri ruoli. Però potrebbe essere sicuramente la versione più equilibrata di questa squadra. Oppure potreste tenere anche Ferisai come centrocampista centrale. Perché alla fine lui nasce come centrocampista centrale. Investite sui terzini e utilizzate questa formazione qui. Che non è male. Nella sezione commenti fatemi sapere se avete provato questi calciatori. E soprattutto quanto vi sono cresciuti. Vi aspetto. Noi nel frattempo siamo pronti per andarci a giocare la partita contro il Bayern Monaco. E questa è la formazione dei nostri avversari. La mia ormai avete imparato a conoscerla. Quindi direi che possiamo andare in campo sempre sul pezzo. E forza Frosinone. Veramente un peccato per quel Monterisi. Veramente mi è rimasto qui. Io ho intenzione di riprovarlo. Perché non è possibile che non possa crescere più di così. Siamo al Bayern Monaco con Rashford. Ocoli su di lui. Occhio in chiusura. Non riusciamo però a mettere fuori questo pallone. Ancora Ocoli. È fuori gioco. Benissimo. Benissimo. Tra l'altro mi sono ricordato adesso e ci ho pensato. Guardate come dobbiamo tenere larghi i nostri esterni. È passato Kvernazze. Ibrajovic. Elex. È un ex. Orghe. Per Zai. Per Kvernazze. E siamo avanti. Ma che azione abbiamo fatto? Cioè non so se avete capito come è andata. Ferizai per Kvernazze che si è inserito perfettamente. Che bel gol. Che bel gol. È diventato tutto buio a un certo punto. Ma sì mi sa che si è stato buio. Tutto buio è diventato. Ci sono spette le luci. Rashford. Turati. Si fa trovare pronto. Ha tirato una bella saccagnata. Eh Marcus. Attacca il Bayern Monaco. Palla centrale. Musiala. La palla. È per ancora Rashford che trova davanti a sé un ottimo Turati. Ancora il Bayern. Oh Collie. Questa volta. Turati. Non può nulla. Su Musiala. Ma c'è il parezzo del Bayern Monaco. Meritato. Mannequin Salens per Musiala. Ancora il Bayern Monaco. È stato bene questo secondo tempo. Turati su Rashford. Quanto è forte Turati signori. No ma io non ho fatto niente. Ma non ho fatto niente. Ma cosa dici? Cosa dici? Ma non è vero. Ma io ero fermo. Ma lui va. Ma scusatemi ragazzi ma. Rashford contro Turati. Continua la maledizione di Marcus Rashford. Para Turati. Vernaz. Dalle parti di Ibrahimovic. Attenzione perché noi attacchiamo con comunque tanti uomini. Ma Ibrahimovic non passa dalle parti di Delicte. Ancora Turati signori. Ancora Turati. Siamo in grande difficoltà. Ancora Turati su Rashford. Ancora Turati su Rashford. Sì. 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 Bravo Sule. Ancora Turati. Signori un portiere che para. Io non posso crederci. Sono senza parole eh. Sono veramente senza parole. Non so cosa dire. Eh no. Eh vabbè qua. Come è rimasto lì il pallone. Joao Felix. Joao Felix. Prima o poi dovevamo farlo. Ma è rimasto lì il pallone. Proprio non ho fatto in tempo a prendere una decisione. Ibrahimovic. Proviamo con l'ultima azione. Vernazze. Ce n'è andato Vernazze. Ibrahimovic ha sbagliato l'appoggio. Forse l'abbiamo recuperata. Con Sule senza fallo. La difesa del Bayern è veramente troppo tosta signori. Finisce qui. Finisce qui. Abbiamo incontrato una squadra. Dove corre quello là? Realmente troppo più forte di noi. Nonostante noi avessimo una squadra forte in più di una zona del campo. Oggi abbiamo faticato molto. Ci sono visti poco Caio Horge e Sule. Ma non ho dubbi sul fatto che siano fenomenali. Mostruosi. E in una squadra un pochettino più equilibrata. Forse sarebbero anche risultati più letali. Però va bene così. L'importante era costruire un buon Frosinone. L'importante era capire dopo 5 stagioni questi ragazzi come potevano crescere. Direi che vi ho dimostrato che la squadra Frosinone è tanta roba per una carriera allenatore. E che questi giocatori, la maggior parte, possono ritornarvi utilissimi. In caso vogliate fare un progetto con un'altra squadra. Potete puntare su buona parte di questi calciatori. Spero in ogni caso che, nonostante la sconfitta, ci riproverò. Ci riproverò. Questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Figliore in campo quest'oggi. Turati. Senza alcun tipo di dubbio. Mi è piaciuto molto in game Ferrizai. Tanta roba. Signori, direi che possiamo concludere qui. Lasciate un mi piace, un commento e consiglio. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.